Buonasera amici di Portland, benvenuto agli proprosti da Tomasina, dove è tutto pronto per la finalissima di Calpa 5, si affrontano Dream Team e si vengono in taglia, grande classico, vediamo che farà la meglio. Sta partendo Romualdo, da Silva, calcio in porta, sul fondo, è lungo per Beretta, da Silva, Romualdo, da Silva col destro, non sbaglia, è al minuto 11, passa in vantaggio a te che tacca, tutto all'uomo, tutto sta dentro, destra in porta, gol clavoroso, col 2 a 0 tiki tacca. Colasso di Flores al volo che si è suordinato alla perfezione. In conclusione in forte, gol di Dream Team, con Rylea che riapre i giochi al ventesimo minuto. Zanutto con un po' di campo, mette dentro, Silva combatte, Zanutto col destro ed è strepitoso. Il portiere De Sousa, Rylea, Beretta, Rylea, calcio col destro, largo di nulla, piacciazione. Il Rylea col sinistro, Salzano, alza il calcio d'angolo. Rylea se la prende, è un 3 contro 1, Rylea, Calarasu, Rylea, ed è gol! 2-2 Rylea, 3-2! Rylea! Zanutto, c'è già col destro, la pallareta è lì, incredibilmente però non entra. Mazzo, col sinistro, mazza! Fa gol! Tiki taka, 3 a 2, esultanza con la telecamera. Chiuso E' ancora lì Beretta Raylean Col destro Segna ancora Ivan Raylean 3 a 3 La Silva Romualdo C'era sul destro Dove dentro E' la galla di Flores 4 a 3 Tiki taca Flores Sull'assist di Romualdo Raylean Col sinistro Largo 20 secondi La fine Raylean Col sinistro La deviazione Di Purita Sottoporta Anzi era Kiriak Non è precisa E finisce qui Finisce La vittoria di Tiki taca Per 4 a 3 La gioia di Pirovalo Guardate Esplode incontenibile Il presidente Che vince Il campeonato di calcio a 5 Tiki taca Etica Teo Il campeonato di calcio a 5 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 Il campeonato di calcio a 5